ciao ragazzi e bentornati nel mio canale questo è una rubrica nuova sul mio canale si chiamerà video rubrica consigli infatti la troverete anche nella playlist e in questa playlist inserirò tutti questi video dove appunto vi consiglio man mano che ritesto i vari strumenti del mestiere chiamiamoli così il primo strumentino che voglio consigliarvi assolutamente è questo trapanino ovviamente per chi fa lavori minuziosi di artigianato o anche che si diverte con la resina come faccio io in questi giorni questo trapanino me l'ha regalato la mia amica ammonia che ringrazio per avermi aperto un mondo perché davvero è spettacolare questo trapanino aspettate che ve lo mostro qui c'era appunto la scatola con con eccola qua la scatolina con tutti i vari le varie punte poi all'interno in dotazione esce anche il cavetto usb per poterlo ricaricare al pc o anche tramite una power bank è davvero veloce a tre velocità un attimino che lo tolgo dalla scatola così vi mostro tutto e se non erro c'è anche la garanzia sì c'è anche la garanzia ok tolgo tutte le scatoline e vi mostro appunto il trapano questo trapano come dicevo prima ha tre velocità la prima velocità è 5000 giri la seconda è di 10.000 giri e la terza velocità è di 15.000 giri quindi davvero davvero spettacolare io tenete conto che ho sempre utilizzato la prima velocità per andare a fare dei lavori abbastanza precisi e minuziosi vi mostro vi illustro com'è la prima velocità ovviamente non c'è la punta questa è la prima questa è la seconda e la terza velocità non pesa neanche tantissimo e si possono fare tantissimi lavori come dicevo prima all'interno in dotazione escono queste punte qui un attimino che le tolgo tutte quante dalla scatolina così ve le illustro le dita cicciotte non entrano all'interno ecco qua qui ci sono anche quelle lì per andare a lucidare in lana poi ci sono anche quelle lì per andare a a raschiare aspettate che non riesco a togliere l'ultima punta ho le dita troppo cicciottine eccole qua vedete c'è sia questa qua che va proprio ovviamente questa già l'ho utilizzata ha una grana molto grande e possiamo tra virgolette utilizzarla per togliere gli eccessi sul retro delle delle creazioni in resina volendo perché no oppure come dimostrazione sul sul sito c'era anche chi vuole andare a levigare delle parti in legno quindi può essere utilizzata anche con con il legno poi come dicevo qui ci sono sia quelle per lucidare sia quelle per andare appunto a a levigare una parte e poi ci sono anche le punte per andare a forare ce ne sono due in dotazione c'è quella grande e quella piccola quella piccola la utilizzo per andare a forare tipo i cabosciano per andare ad inserire un perno a vite invece questa qui grande la utilizzo per andare a forare tipo le gocce poi vi mostrerò come vengono i risultati sono davvero molto molto piccoli e perfetti riguarda la potenza delle batterie già vero detto i livelli di velocità che è possibile anche cambiare appunto le testine qui infatti qui in dotazione ce n'è un'altra aspettate che è all'interno eccola qua in dotazione ce n'è un'altra per poter poi andare ad aggiungere le varie le varie punte e vedete i vari usi potete tranquillamente lucidare un metallo oppure potete andare questo per esempio fa l'esempio di andare a grattare via il la parte annerita del del taglierino c'è la parte arrugginita oppure andare vedete a ad incidere sul legno io ve lo straconsiglio non so se vi possono servire questi altri dettagli prodotto comunque l'ho preso appunto su su amazon all'interno ci sono 31 pezzi e poi come dicevo c'è anche il cavo per ricaricare l'usb tramite usb comunque davvero un prodotto valido ce ne sono tantissimi altri con magari anche più utensili però questo è diciamo è un kit base per per poterlo utilizzare chiunque io che sono le prime armi anche con la resina è davvero una mano santa mi ricordo che inizialmente per andare a forare la resina utilizzavo questo trapano manuale ma questo trapano manuale fa delle delle ferite alle mani cioè ti vengono certi certi dolori qui al palmo della mano incredibili perché una volta che vai a forare le creazioni ovviamente non ne fori soltanto una ne fori diverse e quindi dopo un po ti vengo ti viene il crampo alla mano invece questo è davvero ottimo adesso vi mostro anche cosa cosa ho sperimentato in questi giorni con questo trapano inizialmente l'ho utilizzato per questi cabosciano per andare appunto a raschiare via la parte in eccesso della resina e non andare utilizzare la classica lima quella lì che utilizzo sempre un attimino che ce l'ho qui a portata di mano così ve la mostro anche inizialmente utilizzavo questa lima e quindi a grattare a grattare via a volte mi mi beccavo anche le unghie se non indosso appunto i guanti invece con questo basta che inserisco questo questa punta qui e vado tranquillamente piano piano a levigare tutta la parte che mi corre liscia perché per chi realizza la resina lo sa benissimo che quando appunto la resina c'è un piccolo eccesso quella è tagliente e quindi con questo con questo attrezzino posso tranquillamente andare a levigare tutta la parte che mi interessa e poi andare a fare una una colata di resina trasparente per poter completare il laguccio il cabosciano quello che sia per quanto riguarda poi i fori come vi dicevo prima l'ho utilizzata per forare per esempio questo è un esempio poi ovviamente ne ho realizzati altri altri ho forato appunto questo cabosciano davvero molto piccolo quindi quando vi dico che è davvero preciso e minuzioso specialmente con questa punta qui che davvero molto molto piccola sono andata appunto a forare questo cabosciano e poi ho aggiunto un perno a vite con un po di col con un po di collo oppure anche con un po di resino vi da catalizzare in lampada e poi ho aggiunto appunto il perno a vite per poter vedete realizzare appunto un perno e poter agganciare qualsiasi creazione che sia una creazione in tessitura o che sia appunto una creazione resina come in questo caso tra l'altro questi questi orecchini li adoro oppure un'altra tipologia di orecchino che è utilizzato appunto questo trapanino questi orecchini inizialmente quando ho iniziato appunto con la resina avevo colato troppa resina avevo aggiunto troppa resina quindi avevano in qualche modo deformato la forma dell'orecchino quindi con il trapanino con questa punta qui un attimino che che la trovo così ve la mostro un attimo eccola qua con questa punta qui sono andata appunto a ricreare nuovamente la forma sferica del dell'orecchino e poi sopra sono andata appunto ad inserire queste piccole paillettes per creare appunto questi orecchini davvero molto molto carini tra questi orecchini mentre li modificavo ho realizzato anche un piccolo video così vi mostro appunto il trapanino manuale track life all'opera così vi mostro come ho come ho trasformato questi orecchini e niente io davvero mi trovo benissimo e non vedo l'ora di sperimentare e creare nuove cosine sia in resina ma anche per piccoli lavori infatti questo l'ho utilizzato anche quando mi si è rotto appunto il cavalletto del cellulare e ho forato la plastica con questo qui con questo con questa punta qui ho forato la plastica e poi sono andata ad aggiungere un una vite per tenere appunto il supporto con la parte sotto del cavalletto quindi oltre lavori di resina può essere tranquillamente utilizzato anche per piccoli lavori in caso ovviamente con questo trapanino non possiamo forare un muro di cemento armato però possiamo fare davvero tantissimi lavoretti di hobbistica che sia appunto andare a levigare la resina andare a modellare andare ad incidere possiamo fare davvero tantissime cose interessanti quindi ve lo straconsiglio questo era appunto era il primo video dedicato al video consigli spero vi sia stato utile adesso vi allego le immagini del trapanino track life all'opera eccomi sono quasi simili ovviamente è un po impossibile farli proprio uguali però rispetto a prima diciamo che c'è stato un miglioramento vado ad ultimare le ultime parti e poi vado a colorarli nuovamente con la resina ub ho realizzato appunto il colore bianco con qualche glitterino e adesso fisso i due orecchini sono a base in polistirolo in modo che mi facilita tutta l'operazione metto un po distanti e adesso con un pennellino vado semplicemente a creare uno strato sottile e prendo anche dei glitterini questi qui tondi uno alla volta e li vado ad inserire qui sulla perla ed eccole qua adesso con un po di resina trasparente vado a creare un leggero strato di nuovo in lampada ed ecco qui gli orecchini terminati io spero che questa recensione sia stata di vostro gradimento lasciatemi un like o un commentino io come sempre vi saluto un bacione e la prossima con nuovi video ciao